ciao ragazzi bentornati a voi che siete super tecnicamente fantastici parliamo in questo video di cose innanzitutto di voi e di voi utenti quindi rino on air l'utente più veloce dello scorso video super saluto a te e super saluto al prossimo che sarà super veloce in questo video vi ricordo il link in iscrizione con tutti i social per contattarmi sempre un piacere like iscrizioni campanellina per ricevere sempre ovviamente in anteprima tutte le novità tutti i video come questo video dell'attacco mondiale di rabona aveva imparato di rabona nello scorso video abbastanza bene ci conferma ancora un'altra buona la sua crescita il suo ulteriore attacco col black friday che tra l'altro farò degli speciali sui prezzi del black friday parleremo in qualche video anche del black friday di amazon insomma di tutte le offerte che escono non avete chiesto anche di fare dei video nel periodo del black friday e non mancheranno come non manca questo video su questa tariffa che potrebbe essere la tariffa dell'anno punto di domanda ne parliamo in questo video vediamo di chiarire un po questa tariffa e di vedere se veramente può essere la tariffa che batte tutti perché i presupposti ce li ha però ci sono dei pregi ci sono anche dei difetti come tutte le tariffe allora beh parlavamo di rabona mobile copertura vodafone complinton ha lanciato una nuova offerta un'offerta di 71 giga in 4g ovviamente vodafone con un upload e un download a 60 megabit quindi un limite di banda che per me non ci dovrebbe essere però abbastanza alto quindi migliore di altri ovviamente operatori virtuali che hanno limiti più bassi sms illimitati minuti illimitati il prezzo mensile con ricarica abile ovviamente senza vincoli senza penali eccetera eccetera di 7,99 centesimi di euro al mese quindi tutto il pacchetto 7,99 al mese attivabile da tutti i numeri in portabilità cosa vuol dire che qualsiasi operatore voi avete potete passare a questo a questa tariffa non uno o due operatori specifici ma tutti questa è una cosa mi piace perché è vero che su win back anche se io sono aperto a tutti cioè era buona spesso fa tariffe per tutti le fatti vada tutti questa la riservata la portabilità però su tutti gli operatori non vincolando per forza uno o due operatori se no non te la faccio ma tutti la provenienza da tutti gli operatori questo diciamo il pacchetto che è molto interessante che 71 giga sono tanti ok un giga in più dei 70 di o non mi fanno gridare sicuramente a che innovazione perché alla fine 70 71 sono specchi per la lodola che è un giga di differenza non fa sicuramente la tariffa per da questo punto di vista però per quanto riguarda il discorso che può essere attivata da tutti gli operatori virtuali secondo me può essere qualcosa di già più interessante da questo punto di vista qua perché comunque la puoi attivare chiunque la può attivare team la può attivare vodafone la poterà h3g la può attivare idea della può attivare chiunque detto questo una tariffa per tutti una tariffa soprattutto come primo numero perché una tariffa bella densa di giga ma anche come secondo numero oppure per chi vuole anche andare in internet che 71 giga non sono pochi quindi una tariffa che si può adattare a vari utenti ma però la vedo rispetto a quella di o più come primo numero perché ci sono 60 mega di banda cioè la differenza secondo me tra la buona mobile che sta crescendo e sto continuando a dire che arriverà nei primi cinque operatori virtuali entro un anno o due massimo e si vederà queste cose qua e si pronto e poi la tariffa da 71 giga poi vedete i limiti di banda che fanno ridere che non ci dovrebbero essere però da 30 a 60 stiamo parlando del doppio qua parliamo di 60 megabit in upload vuol dire avere il 4g perché il 4g 50 megabit in upload ai 60 mega quindi comunque ha in upload completo del 4g cioè 4g in upload il 4g 4g plus lo sfrutti a pieno quindi hai già pagato per avere il 4g a pieno in upload e 60 megabit in download comunque non è un 3g ma è un 4g perché il 3g fermandosi ai 21 e 42 comunque non può arrivare a 60 quindi tu hai pieno 4g in upload e un 4g in download limitato ma è già un 4g passiamo i 50 mega quindi stiamo già usufruendo di velocità abbastanza interessanti quindi i limiti di banda di rabona sono più intelligenti rispetto a quelli degli altri da 5 76 o da 30 che secondo me sono troppo bassi ma i limiti di banda di rabona sono intelligenti ma sono da abolire perché comunque una tariffa deve essere pagata senza nessun limite di banda quindi non è che scusiamo rabona perché c'è il limite più alto apprezzo rabona che ha un limite più alto e permette a quel punto di avere più intelligentemente una banda più sostanziosa per quello che paghi ma sarebbe a questo punto meglio toglierli del tutto che sarebbe la cosa secondo me comunque migliore da fare detto questo quindi una tariffa interessante sotto tutti i punti di vista ha un giga in più di tutti ha una collocazione ottima perché va su tutti gli operatori non solo come per esempio quella di osolo su willyad e altri due cioè non ha senso qua invece che sono team che sono vodacom che sono h3g che sono il che sono poste mobile che sono laica mobile che sono chi vuoi io posso passare questa è una mossa giusta cioè dare la possibilità a qualsiasi operatore tu abbia di poter aderire a questa offerta qua non solo a un operatore o due specifici e basta quindi da questo punto di vista la trovo azzeccata cioè dare la possibilità a tutti di poter tutti importabilità ma da qualsiasi operatore avere un limite di banda sì che non ci dovrebbe essere mai più alto degli altri 71 giga sono un giga in più di 70 non fa la differenza ma comunque sono tanti il 4g c'è c'è plintron c'è vodafone insomma non ci sono vincoli l'attivazione sui 20 euro soliti con la sim col primo mese quindi non è cioè veramente sono tutte le caratteristiche per dire la tariffa dell'anno sicuramente è la tariffa migliore degli operatori allora concludendo per me due cose è la miglior tariffa per un operatore virtuale ad oggi sì cioè se devo consigliare una tariffa su tutti consiglio questa secondo me è la migliore ve l'ho spiegato limiti di banda più alti puoi provenire da qualsiasi operatore farla e già bastano questi due qua perché dall'altra parte sei vincolato da altre parti con qualche operatore specifico se no non puoi passare se io team quella di o vodafone quella di o non la posso fare per dire e quindi non ci sono se devo fare ma gage uscire rientrare fare spendere soldi invece qua posso arrivare da qualsiasi operatore comunque 60 mega in upload e in download sono il doppio dei limiti di banda che impongono altri quindi comunque non ci dovrebbero essere ma sono comunque i limiti più alti quindi se devo scegliere scelgo dove più banda dove posso passare da qualsiasi operatore dove un giga in più qual è il problema di questa tariffa che non la fa diventare la tariffa dell'anno secondo me ma la miglior tariffa per un operatore virtuale sì se io dovesse fare un operatore virtuale un operatore virtuale oggi che non ho e che non farò tranne icaro che prova che sono un assendati però se dovessi poi cambiare idea e voler fare un operatore virtuale oggi sicuramente la tariffa che sceglierai è questa questa dirà buona assolutamente se mi venisse da provare un operatore virtuale che poi non si sa mai proverai questa tariffa qua perché la posso fare da qualsiasi operatore o perché dei limiti di banda alla 60 mega e poi su 71 giga quindi mi sembra comunque ben tornita il problema di questa tariffa l'unico vero problema di questa tariffa sono i limiti che sarebbe meglio toglierli ma sono comunque alti ma ci sono ma più che altro il prezzo secondo me 7 99 coi prezzi che girano oggi è un euro un euro più alta di quello che dovrebbe essere sicuramente la mossa sbagliata di rabone la critico è quella di aver messo un prezzo di mercato leggermente fuori dai parametri perché se facciamo la guerra sull'euro bisogna guardare anche un euro anche due non si può dire no non guardo l'euro no perché questo in questo periodo scusate mi tiro il colletto in questo periodo il la guerra sul prezzo c'è 6 99 7 99 può fare la differenza 12 euro in un anno possono fare la differenza se paragonate alle altre tariffe poi li hai o non li hai gli spendi o non li spendi noi dobbiamo parlare di quello che dobbiamo tirare fuori quindi ragionamento economico si fa sui conti di quello che si va a pagare allora 6 99 per questa tariffa considerando i limiti di banda più alte che non ci dovrebbero essere considerando che poteva essere attivata da chiunque era il suo prezzo perfetto a 6 99 era la tariffa dell'anno a 7 99 la miglior tariffa per un operatore virtuale 2019 probabilmente lo sarà perché non siamo a fine anno sicuramente rabona si confermerà il miglior operatore virtuale quest'anno come innovazione come offerte secondo me non dico poi come altri parametri in cresce come crescita futura come possibilità diciamo adesso ancora piccola ma può venire fuori sta crescendo ancora e quindi peccato per questo euro che comunque ci fa saltare purtroppo un pochino il mercato certo non costa tanto 7 99 per quello che che dava bene si fa però se dobbiamo paragonarla ad altri ad altre tariffe troviamo comunque mobile a 5 99 che ha i limiti di banda più bassi però costano due euro in meno c'è ilia dallo stesso prezzo che non ti dà i limiti di banda ai 20 giga meno ma non ai limiti di banda ci sono le tariffe di team e di vodafone che a quel prezzo li ti danno i 50 giga con gli sms limitati vodafone team forse sms non te li dà si a 7 euro te li dà quella dei 5 euro una volta non te li dava però più o meno con con gli stessi euro un euro in meno due troviamo più o meno chi ha gli stessi giga sono vodafone o di vodafone chi invece ha meno giga sono gli altri ma per 20 giga in meno non ha i limiti di banda lo stesso prezzo a un euro in meno invece con o mobile perché poi o di vodafone è giusto con o mobile ai gli stessi giga ma i limiti di banda più bassi con gli altri operatori ai meno giga qualcuno ti dà i 50 giga però non ha i limiti di banda e costi uguale a un euro in meno 7 euro contro i 7,99 7,99 pari quindi questa tariffa se si collocava a 6,99 era la tariffa dell'anno sicuramente di tutti questa dibatte tutti è buona è ottima è promossa peccato per quell'euro lì a volte un euro può fare la differenza però sicuramente è la miglior tariffa oggi secondo me che un operatore mobile ha prodotto perché di sì non per il giga in più che sono 71 che però strizza l'occhio a dire ho messo un giga in più degli altri furba ho messo un giga in più degli altri l'ha messo anche se poi non servirà però non serve con un giga qualcosa ci si fa più che altro i limiti di banda sono più alti rispetto all'altra 70 giga che c'è sul mercato quindi perché non premiarla perché un euro in meno avrebbe fatto non premiarla come tariffa dell'anno perché un euro in meno l'avrebbe fatta proprio una una cornice perfetta sicuramente la miglior tariffa per un operatore virtuale se devi scegliere fai questa qui assolutamente dopo subito dopo quella di voglio che comunque competitiva e poi a scalare le altre c'è anche poste mobile ricordiamo con le sue con le sue tariffe quindi bene una bella mostra da parte di di ravona che ci fa ben sperare per un futuro di operatori virtuali sempre più ampio sempre più tornito di tariffe con l'arrivo dispuso di altri operatori virtuali nel 2020 ne vedremo veramente delle belle io vi do appuntamento alla prossima da paolo uguale ciao e grazie come sempre